i croni sotto i 250 grammi di peso è un fattore critico perché per mantenere basso il peso non hanno una ventola di dissipazione è il caso ad esempio del dji mini 2 e dell'ultimo arrivato absan zino mini pro le caratteristiche dichiarate da absan per lo zino mini pro sono decisamente superiori a quelle del dji mini 2 perché lo zino mini pro possiede i sensori rilevamento ed evitamento ostacoli un sensore camera più grande e tutte le funzionalità tipiche dei droni di categoria superiore per quanto riguarda le modalità intelligenti le modalità smart infatti zino mini pro può volare a waypoint all'actic track al follow me basato su gps e altre funzionalità che il dji mini 2 non ha però tutte queste funzionalità richiedono un grande processo di elaborazione a carico dei microprocessori in particolare dei processori immagine semplificando si può dire che si tratta di schede grafiche volanti delle gpu che elaborano le immagini sia quelle provenienti dei sensori evitamento ostacoli che altro non sono che delle telecamerine che quelle della telecamera principale come detto tutte queste elaborazioni sviluppano molto calore per quanto riguarda i componenti elettronici e microprocessori e le gpu analogamente a quanto accade in un personal computer ed ecco perché lo zino mini pro è dotato di un grande dissipatore sulla parte inferiore perché sviluppa molto calore come abbiamo visto nel video precedente tanto che absan per non fondere tutto quando il drone è fermo a motori spenti ma acceso magari perché lo abbiamo collegato a un computer per scaricare file video memorizzati nell'unica memoria che ha che è interna non ha la possibilità di sd card absan ha fatto in modo che quando non è in volo non c'è video di ritorno sull'app proprio per cercare di diminuire lo sviluppo di calore che non riesce a dissipare visto che non c'è una ventola interna come detto oggi voglio effettuare l'analisi definitiva su questo aspetto della dissipazione del calore confrontando anche lo zino mini pro con il dji mini 2 sia in ambiente interno sia in ambiente esterno in modo da esprimere una valutazione definitiva sulla questione dissipazione calore dello zino mini pro quindi collego la termocamera per smartphone ht 301 che è una termocamera da 384 pixel di risoluzione se siete interessati a conoscerla vi lascio il link in descrizione e procedo con la prova benvenuti in un nuovo video di quadricottero news iniziamo a vedere che temperature sviluppa lo zino mini quando è acceso però rimanendo fermo è una condizione che si può creare quando ad esempio si devono scaricare i file collegando lo computer dopo un minuto queste sono le temperature quindi intorno ai 47 gradi dopo due minuti arriviamo a 55 56 gradi dopo tre minuti arriviamo a 60 gradi vi ricordo che il video qua non è attivato il video di ritorno e dopo quattro minuti arriviamo a 64 gradi praticamente continua ad aumentare lentamente ora vediamo il dji mini 2 dopo quattro minuti resta abbastanza costante sui 55 56 gradi in questo caso il video di ritorno viene trasmesso e attivo come sappiamo non ci sono limitazioni nelle funzionalità adesso vediamo lo zinimino in un hovering indoor in ambiente interno dopo qualche minuto vediamo che temperature sviluppa 75 76 gradi mentre la batteria raggiunge 61 gradi una sessantina di gradi comunque come potete notare questa invece è dji mini 2 in hovering indoor vediamo che temperature sviluppa ecco possiamo notare che a parità di condizioni e di tempo di hovering raggiunge 59 60 gradi diciamo 60 gradi comunque 15 gradi meno rispetto allo zino mini qua siamo in hovering in ambiente interno a questo punto non resta che verificare la temperatura della batteria quindi atterro e apro lo scompartimento dove è alloggiata la batteria naturalmente vediamo vediamo 60 gradi ancora il dissipatore interno vediamo a che punto è la batteria ecco possiamo notare 50 gradi in raffreddamento quindi abbiamo visto una 50 gradi anche qua quindi una decina di gradi in meno rispetto alla batteria dello zino mini ma ora facciamo un importante prova in esterno faccio un volo con lo zino mini e ritorno per verificare a che temperatura si trova eccomi tornato questo rilevamento con la termocamera vediamo a che temperatura si trova e possiamo notare temperature decisamente più accettabili rispetto all hovering in ambiente interno c'è anche un polimento che aiuta comunque sono temperature accettabili vediamo cosa accade con la stessa prova sul dji mini 2 questo è un hovering di ritorno vediamo che temperature siamo e anche qua siamo 40 41 gradi insomma una decina di gradi in meno rispetto a 45 gradi una decina di gradi in meno rispetto allo zino mini pro quindi c'è sempre questo delta di 10 gradi sia indoor che in outdoor tra zino mini e dji mini 2 devo dire che i risultati di questa prova mi hanno confortato molto sullo zino mini queste temperature le ritengo accettabili un po elevate ancora un po elevate ma comunque accettabili e queste sono le mie personali conclusioni sullo zino mini naturalmente vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate e per leggere le vostre considerazioni su questa su questa prova allora a quanto ho capito io e o quanto ho accertato praticamente lo zino mini taglia funzionalità a seconda la temperatura più la temperatura diventa elevata e più taglia servizi ad esempio se ci sono i sensori evitamento ostacolo attivi se la temperatura sale e l'indisabilità per cercare di diminuire appunto la temperatura un po come accade sui computer il computer infatti quando la temperatura diventa elevata e abbassano le prestazioni quindi abbassano il clock del processore e via dicendo ecco lo zino mini absan ha adottato una strategia molto simile quindi taglia servizi a seconda della temperatura direi che bisogna fare attenzione esclusivamente nei voli indoor e quindi cercare di limitare l'overing a pochi minuti indoor come abbiamo visto le temperature salgono salgono velocemente anche la batteria si stressa se viene tenuta accesa perché magari si deve collegare al computer quindi a motori spenti bisogna cercare di raffreddarlo dopo cinque minuti perché ho notato nella prova che la temperatura aumenta via via anche se in questo caso è disabilitato il ritorno video comunque aumenta gradualmente lentamente ma aumenta quindi il mio consiglio è quello di iniziare a raffreddarlo dopo cinque minuti in cui è acceso fermo poi se vogliamo in una giornata di sole molto calda come questi giorni quando ci sono più di 30 gradi e se non c'è vento e stiamo facendo overing è meglio limitare l'overing per il resto invece luce verde secondo me non ci sono problemi questo che ho fatto vedere è stato un volo in realtà ho verificato in più voli in diverse condizioni che comunque la temperatura in un volo normale non sale mai a 70 gradi come invece sale quando è indoor quindi secondo me funziona bene si è un po sopra le righe per quanto riguarda la temperatura però siamo nei limiti diciamo alla fine comunque absan ha adottato una strategia intelligente per limitare le temperature e quindi è riuscito ad ottenere un drone con tante possibilità che però si limitano quando le temperature aumentano ma le temperature aumentano appunto soltanto in pochi casi in questi casi che abbiamo visto bene direi che l'argomento temperature per quanto mi riguarda è chiuso secondo me lo zino mini è promosso a queste condizioni quindi non non riscontro problemi e va bene così naturalmente aspetto come ho detto le vostre considerazioni nei commenti mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate grazie per l'attenzione se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con il prossimo video su quadricottero news ciao a tutti e buona continuazione